Oggi abbiamo sottoscritto un importante contratto, è la fornitura di sei gru per il trasporto intermodale delle merci e per un valore totale di 31 milioni di investimento per uno dei terminal più strategici per l'Italia e per l'Europa. Si tratta di Milano Smistamento che avrà un ruolo cruciale dal 2026 in poi proprio per i traffici intermodali del nostro paese verso l'Europa. La firma di questo contratto rappresenta un passo fondamentale per la realizzazione del terminal di Milano Smistamento che sorgerà su un'area di 240 mila metri quadri ad est di Milano nel comune di Segrate e consentirà già dal 2026 di spostare su ferrovia il traffico diretto per il nord Europa che attraversa la Svizzera. Una giornata importantissima per questa collaborazione tra Svizzera e Italia con questa realizzazione, questo è un passo importante di queste gru a Milano Smistamento e rafforza il model shift a favore della feria per il futuro. Siamo molto orgogliosi di essere qui e vediamo con grande ottimismo il futuro.